Ha fatto tutto da solo l'81enne di Marotta alla guida della sua Mercedes, schiantandosi verso le 10.30 di questa mattina contro ben 4 panettoni in cemento, abbattendo di conseguenza la segnaletica stradale collegata e di fatto disintegrando il muso della sua auto, mentre percorreva Viale Piceno poco prima dei capannoni dei carri di Carnevale in direzione Ancona, una volta arrivato all'altezza di quello che ormai possiamo chiamare un vero triangolo delle Bermuda per quando riguarda la circolazione stradale fanese, visti gli innumerevoli incidenti che si sono verificati ininterrottamente in questo punto fin dalla sua creazione. Più che un triangolo, in pratica è un quadrilatero creato con l'intento di snellire la circolazione verso l'aeroporto ed un pericoloso incrocio a T, ma il risultato è che sistematicamente chi va verso Ancona fa dei contromano clamorosi sia di giorno ma anche di notte, o per distrazione o per imperizia. Quando va bene, come questa volta, non coinvolgendo altri veicoli, quando va male, come è accaduto quest'estate, con diversi mezzi coinvolti e feriti anche gravi. Le cause di questo ennesimo contromano sono ancora al vaglio della polizia stradale di Urbino che è intervenuta sul posto per i rilievi. L'uomo, non ferito gravemente, è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso di Fano per le cure del caso. Nessun altro veicolo né persone sono stati coinvolti nel sinistro. Il mezzo è stato poi rimosso con l'utilizzo di un carroattrezzi perché non marciante e non c'è stata alcuna ripercussione alla circolazione stradale, essendo l'auto finita nella sua corsa nella zona neutra dello svincolo.